Perché ci si proponga di navigare è necessario essere convinti che il mare esiste. Ora questa sembra un'ovvietà, però se si risale nella storia dell'umanità, gli uomini non pensano il mare come percorribile, navigabile, solcabile, non pensano il mondo come percorribile, ma pensano delle strutture rigide dalle quali inizialmente sono oppressi, soffocati, cioè il mondo costituito da un insieme di strutture inflessibili. Cioè qualcosa di dato. Ancora di dato nel senso di come legge immodificabile, il mondo del mito, strutture inflessibili che riducono al minimo l'azione dell'uomo. Poi l'uomo reagisce contro gli inflessibili e allora possiamo dire li vuole flettere. Ma perché questo avvenga nella forma più radicale? Perché questo granito che inizialmente si presenta all'uomo si liquefaccia e sia manipolabile è necessario pensare il divenire del mondo, la liquidità della realtà. Lei sa senz'altro che Simmel diceva che il denaro è l'immagine più pertinente della realtà perché il denaro è liquido. La liquidità del denaro corrisponde alla liquidità della realtà. Se la realtà fosse fatta da una rete che non può essere, o fosse una struttura immutabile non ci sarebbe azione. La filosofia ha portato alla luce il concetto di una realtà trasformabile senza di cui non semplicemente non potrebbe sussistere questo o quel metodo della scienza, ma non potrebbe nemmeno sorgere il progetto di una dominazione del mondo. Allora da questo punto di vista la filosofia ha vanamente tentato di essere inutile e invece è sempre stata la fonte dell'utilità perché se non si pensa il mondo come diveniente non ci si può nemmeno proporre di dominarlo, di costruirlo, di trasformarlo. In proposito io penso all'opposto di quel celebre aforisma di Marx. Marx dice fin qui i filosofi hanno contemplato il mondo, ora si tratta di trasformarlo. Io direi la filosofia nella sua prospettiva storica finora ha trasformato il mondo, anzi è stata la radice di ogni trasformazione del mondo e questo conduce a cose di cui forse parleremo dopo. Ma si tratta finalmente di contemplarlo, cioè di capirne il senso. Credo che l'estremo carattere pratico nonostante quello che si dice perché questo discorso è un discorso che normalmente non è in circolazione. Nonostante il carattere pratico del pensiero filosofico, quindi una praticità per cui la filosofia è essenzialmente solidale con la scienza, bisogna incominciare a vedere qual è il senso del mondo e se allora il compito della filosofia, lei prima mi diceva cosa vuole dire essere filosofi oggi, allora se oltre al compito storico che fin qui la filosofia ha svolto, e cioè di essere la sentinella del divenire del mondo, non ce ne sia un altro più importante, quello di mettere in questione il senso del mondo che ci conduce alla scienza, alla civiltà della tecnica. Grazie. Grazie.